Buongiorno a tutti e a tutte. Anche oggi ci incontriamo per un po' di tempo sotto il titolo della speranza non delude. Il brano di oggi è alla fine del capitolo ottavo del Vangelo di Giovanni che abbiamo iniziato a leggere qualche giorno fa con l'episodio dell'adultera portata davanti a Gesù. Ed è interessante e significativo il fatto che questo capitolo si era aperto con l'intenzione di lapidare la donna ed oggi invece il capitolo si conclude con l'intenzione di lapidare Gesù. È un passaggio interessante perché dice come la radicazione nelle proprie convinzioni alla fine spinga ad uccidere chi si prova a metterle in discussione. All'interno di tutto questo però oggi c'è una parola di Gesù che è quella che scatena poi l'ira di chi lo ascolta. E dice così Ora questa espressione presenta almeno tre dimensioni che sono importanti. La prima è la dimensione del silenzio che è elemento necessario e che forse oggi in parte stiamo sperimentando nel frenarsi della vita. Il silenzio è il luogo dell'eternità dove è possibile scoprire anche dentro di sé questa scintilla di infinito. Il secondo aspetto è quello dell'ascolto che nasce dal silenzio e che non è passività ma che è apertura profonda alla parola che si fa incontro. E infine quel non morirà in eterno. E' un'immagine che viene anche in un altro passaggio del Vangelo quando Pietro dice a Gesù Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Pietro non ha consapevolezza piena di quello che significa ma sente nel profondo del cuore che lì trova una parola che lo dischiude, che lo apre, che apre tutta intera la sua vita. Oggi noi siamo pieni di polemiche e ci vengono vomitate addosso da tutti gli strumenti parole che lasciano il tempo che trovano proprio perché spesso hanno il sapore esclusivo della polemica e non della costruzione. E nel silenzio forzato delle nostre esistenze forse possiamo provare ad aprire all'orecchio a quelle parole che dilatano la nostra umanità, che la aprono, che la dischiudono, che la fanno entrare in una logica che è la logica della vita. Buona giornata a tutti.